Lo so ragazzi, lo so, dovevo fare questo video molto prima, però l'ho fatto dopo perché dovevo un po' riassorbire la rabbia per quello che è successo, cioè io quando ho segnato l'inter, io me ne ero andato direttamente in camera mia e non ho fatto nient'altro, cioè ero talmente arrabbiato che mi ero anche dimenticato di fare la reaction, non per gli arbitri alla fine, perché la munizione... Forse la seconda c'era, ma la prima proprio inesistente, non posso dire niente perché quest'anno l'inter è una cosa assurda, sto facendo il video prima della partita della Lazio, qualche ora prima della partita della Lazio contro il Napoli, Non voglio dirvi niente perché il Napoli ha giocato quella partita veramente con grande carattere, intensità e cuore, ma sono veramente rimasto arrabbiato per quello che è successo, soprattutto per il gol al novantesimo di Lautaro, perché quello là il gol c'era. Ma proprio tre minuti prima dei rigori mi sembrava una fregatura piuttosto grande, Mazzari ha già vissuto questa cosa a Pechino nel 2012, io tenevo cinque anni, me la ricordo quella finale, e vi assicuro che mio padre non l'ha presa bene perché, scusate, non mi ricordo, c'era un rigore non dato in quella finale di Pechino, Vabbè, non voglio parlare della finale di Pechino adesso perché la finale di Pechino era un'altra cosa rispetto a questa qua di Riad, diciamo quella di Pechino è stata peggio perché veramente là, Pandev che viene espulso senza aver fatto niente, poi uno da un calcio a Zuniga, niente, Zuniga dal calcio è rosso, quella là è un'altra cosa, però voglio parlare della partita in generale. Diciamo che il Napoli non è che abbia fatto chissà quanti azioni, ha fatto solo un tiro con Vara, parato da Sommer, però avesse alzato di più sarebbe entrati in porta, ma dopo che è stato espulso Simeone, veramente la partita è salita per l'Inter e non c'è stato niente da fare, veramente. Comunque era giusto fare questo video per vedere come la pensavo io e niente ragazzi, non penso parteciperemo alla Supercoppa l'anno prossimo, anche perché dovevamo arrivare o in finale di Coppa Italia o secondi in classifico ed è impossibile visti i andamenti di Inter e Juve quest'anno. Quindi direi che la prossima Supercoppa che giocheremo non lo so quanto sarà, ma almeno spesso si lotta per il quarto posto e anche per la Champions League, almeno per passare il turno, non si sa adesso, perché contro il Bacione non so se si fa una figuraccia, perché il Napoli ha lottato veramente contro le sue forze con l'Inter. Ci vediamo contro la Lazio stasera a sto punto, che vi devo dire. Voglio vedere in opera Dendonker e Ngonge, tra ore ancora deve fare il processo di riatletizzazione, perché appunto aveva preso la malaria, vabbè ragazzi, ci vediamo stasera. Ciao!